Anche quest'anno ISPRA aderisce al Bike to Work Day, quindi avete già ricevuto la comunicazione a quanto sa, via mail, dal Mobility Manager, chi vuole aderire all'iniziativa deve comunicarlo al Mobility Manager. Cosa si fa? Si viene in bicicletta al lavoro, cosa che facciamo un po' abitualmente e qualcuno forse eccezionalmente, però tendenzialmente si viene in bicicletta. C'è un punto di raduno alla stazione Trastevere per venire all'Eur, questo per chi faccia quel tragitto, altrimenti più o meno ci sono i tragitti dei ciclisti abituali, però per esempio per quanto riguarda il mio tragitto abituale in questi giorni lo sto cambiando, perché forse non sapete, ma il Tevere ha superato la banchina già da più di un mese, adesso la banchina è di nuovo in teoria accessibile, ma ci sono banchi di fango, ultimamente mi sono scocciato quando piove di arrivare troppo infangato e di bucare con facilità. Io tendo a dimenticarmi questo giorno Bike to Work Today, perché in realtà vengo sempre in bicicletta, da quando ci siamo trasferiti, poi qui dal 2012 ci siamo trasferiti, mi piace venire in bicicletta fare questo percorso, ho un percorso relativamente fortunato, per cui quasi tutto inciclabile, salvo quando la ciclabile è impraticabile come ora, però è un percorso che mi rilassa, quando vengo in bicicletta arrivo comunque abbastanza bene, molto meglio di quando vengo con i mezzi pubblici che secondo me sono molto più impegnativi che non la bicicletta. Usa la bicicletta perché ti conviene, nel senso se hai il coraggio devi superare i blocchi, non si prende la bicicletta per tanti blocchi, per tanti motivi molto spesso ragionevoli, tra i quali il pericolo e la fatica, ma quando comincia ad andare in bicicletta alla fine li superi questi blocchi.